...partiti Pezzella, intanto è partito proprio Babacar, pallone all'interno dell'area di Liga, a conclusione, subito Fiorentini in vantaggio, dopo 90 secondi, che avvio di partita? Bella azione, due passaggi, come dice l'amanacco del calcio, due passaggi al tiro, un bel gola, beh, tra l'altro Babacar è un giocatore che non è sempre più giusto, perché può anche aprire le partite, spettamente ripresa sulle 0-0, è un molto utile...